è una cottura con un forno termoventilato qua in regolare fatta da una manualità da cane il commento tecnico giustissimo muschio selvaggio il podcast più fico Federico Martì muschio, microfono, videocamere, luci ospiti diversi, sei più nuovi amici venti minuti, un'ora di argomenti disegna imprendibilità, giochi, l'aripotenza, risate, piante, rispetto, sincerità e approfondimenti siamo negli anni venti muschio selvaggio ok, niente, ho dormito due ore, sono un po' in hangover, ma perché lo sto dicendo? mi sembrava una bella intro, è un intro terribile, ma oggi con noi a Muschio Selvaggio abbiamo Iginio e Deborah Massari benvenuti, grazie di essere qua grazie a voi ma volevo chiedere, hangover? come si dice hangover? in italiano come si dice hangover in italiano? se non lo sapete voi i postumi cioè i postumi i postumi la sera leoni, la mattina peperoni esatto ognuno ha una sua versione vabbè, innanzitutto come state? estate fa caldo giusto come è estate? dite devi, giusto? come è estate? si, l'ho capita si, si come il cognome è un bel cognome essere diventati una dinastia vuol dire c'è qualcosa da tramandare qualcosa di fantastico quanto indietro quanto indietro riuscite a risalire alle vostre origini? ma credo che la dinastia Massari sia nata con Iginio beh, vabbè, prima di Iginio ci sarà stato lo so, ma adesso adesso sono i Massari della pasticceria quello intendo, no? hanno qualcosa da tramandarsi ma magari più o meno intendevo quanto indietro riuscite che non c'entra con la pasticceria ho capito beh mia madre aveva una trattoria gelateria in quel di Brescia e quando avevo circa 3-4 anni giocavo in continuazione vicino alle bacinelle del gelato che allora non c'erano tutti i maschigli ingegni che ci sono ora i pastorizzatori e la macchina per formare il gel del gelato ma c'erano delle grandi bacinelle smaltate bianca e verde devi calcolare che a 3 anni vedevo tutto gigantesco che sogno erano messe su delle assi alzate 10 cm da terra e le mettevano lì per far raffreddare le creme coperte da un panno e giocando io caddi dentro in una di queste bacinelle così scherzando nel tempo ho sempre detto che ero uguale a Obelix lui è diventato fortissimo e io sono diventato dolcissimo e da lì è nata la dinastia Massari e hanno continuato e stanno continuando i figli chissà se un domani non lo faranno anche i nipoti sarebbe un bel traguardo come Hercules magari Hercules cosa è successo? non Hercules pensavo che avessi qualcosa in testo mi indicavi che cosa sta succedendo no non Hercules Achille e sei stato immerso nel gelato e magari è rimasto fuori un pezzo di inginio un tallone speriamo di no e quella parte lì non va toccata magari sei immortale tranne che nel punto che non è stato bagnato dal gelato è l'importanza di non essere toccati nel cervello poi funziona tutto però quest'anno festeggiamo i 50 anni della pasticceria 50 anni quindi fondata nel 71 nel 1971 che bello auguri grazie auguri posso fare una domanda ma in questi anni ce la posso fare vai Federico ce la puoi fare ce l'hai da qui a 50 anni fa la pasticceria in qualche modo segue il corso del tempo cioè si ammoderna anche la pasticceria allora nei primi 15 anni era abbastanza statica poi ha incominciato a correre a correre in continuazione e la competizione è diventata infinita tanto è vero che adesso tutti i nostri prodotti ogni sei mesi a turno li ricontestiamo li ammoderniamo li adattiamo ai gusti delle persone attuali non quelle di ieri certo perché il gusto cambia in continuazione ma basta che tu ti guardi allo specchio tutti i giorni anche noi cambiamo e di fatti non mi riconosco più ma è vero che un tempo si mangiava molto meno dolce o più raramente no? una volta si mangiavano i prodotti molto più zuccherati perché non c'erano i veri conservatori o i veri frigoriferi e lo zucchero dal momento che lega l'acqua libera faceva da tampone per non far sviluppare le cariche batteriche è una sorta di conservante naturale bravissimo come il sale per i cibi salati il sale è molto più potente ma lì non puoi esagerare perché il sale se esageri non mangi mentre lo zucchero al limite è dolcissimo ma riesci a mangiarlo sì ma voi siete golosi? allora io no dipende io faccio delle diete strane poi quando dopo un mese che faccio la dieta mi rompo le palle e di notte mi mangio solo dolci tu poi bevi una volta all'anno esatto però mi capita di mangiare i dolci che mi manda Iginio oh mio dio il panettone che buono il panettone di Iginio ragazzi è pazzesco non ho mai avuto l'onore di assaggiare beh lo avrai presto wow che modo fantastico di chiedere il modo più bello perché vanno sold out sempre i panettoni i pandori le colombe queste cose qui panettone che ci vogliono 72 ore per farlo vero? eh sì il tempo non si calcola ma si calcola si deve vedere il risultato finale per un panettone 72 ore è come nella tua arte nel canto non guardi se impieghi un giorno o un anno giusto ma quello che è importante è che quello che fai piace a te ma deve piacere soprattutto agli altri giusto però capita che dei clienti arrivino al mattino e ti chiedano ma riuscite a farci un panettone per il pomeriggio eh no eh no amici miei non è una pizza non è neanche ma no no prego 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 chiedevo tu invece quando iniziati cioè quando hai detto ok iniziamo la legacy Massari eh tanti anni fa 21 anni fa 21 anni fa quanti anni avevi non si chiede non si chiede era per sapere se era molto giovane no se era a 14 anni perché 14 anni è una scelta importante no si era appena laureata appena laureata però io mi sono laureata a 15 anni esatto giusto ma laureata hai fatto l'alberghiero no ho fatto lo scientifico poi avrei voluto iscrivermi a medicina ma lui era già il numero uno diciamo dei pasticceri in Italia e quindi ho detto ma perché non investire nello e quindi mi sono laureata in scienze e tecnologie alimentari oh fantastico oh scienze e tecnologie alimentari che poi l'evoluzione dicevamo prima della pasticceria può essere che sia avvenuta più in quel campo che nel campo dei gusti più nell'aspetto tecnologico che in quello di sapori anche nella chimica probabilmente tutte e due oh mi hai detto bravo tanta chimica immagino sì vorrei dire che hai detto bene il gusti perché normalmente nel linguaggio normale si parla in continuazione di sapori guarda che sei stato bravissimo perché lui cazza tutti i giornalisti no meno male e hai azzeccato proprio la parola corretta sì perché i sapori sono cinque ufficializzati e il sesto è l'untuoso i sapori incidono sulla percezione dei gusti e questo qua è molto importante usare il linguaggio adatto per ogni cosa che si fa per riuscire a capirci di cosa stiamo parlando ti fate i miei complimenti perché è uno dei pochissimi che ha azzeccato esattamente di cosa sta parlando ma papà scusami ti dico un'altra cosa lui è bravissimo anche a cucinare perché io l'ho visto la carbonara ma sai con cosa? con i piedi esatto sì è stato un esperimento puoi ritirare i tuoi complimenti è il momento giusto non è appetibile da vedere fare ma da mangiare non è male il mio cibo preferito dolce è il pasticciotto alla pugliese è solo pugliese il pasticciotto nasce a Lecce è stato elaborato da un mio amico che l'ha trasformato impasticciotto al cioccolato però il marchio è pugliese è così piccolo il mondo della pasticceria che conosci la persona che l'ha trasformato in cioccolato vabbè è come dire gli youtuber non è che è piccolo il mondo però se fai quel lavoro lì te lo scelgo si si rigira no deve essere un mondo forse diciamo che qui c'è un'alta concentrazione in Italia come non so in Francia in Italia ci sono scusami circa 30.000 imprenditori 30.000 pasticcerie sono tantissimi ci sono dei bambini scusate ti dirò delle parolacce perdonatemi la nazione più forte mi prego ditemi che siamo noi davvero lo stiamo dicendo perché dobbiamo fare i figli o è davvero così no siamo noi assolutamente più dei francesi oggi sì poi a cascata noi abbiamo il culto del bar il bar è riempito di ti voglio dire che anche in Francia attualmente 15 anni fa non si parlava di pasticceria con bar adesso in Francia quasi tutti i grandi nomi a livello internazionale mondiale hanno aperto anche loro i loro bar perché è un'occasione hanno rincominciato a fare le brioche che allora le brioche o la viennoiserie come la chiamano era di esclusiva dei panettiere l'odore del burro la brioche è francese sì si chiama brioche la brioche è un conto il cornetto che fanno in Italia è un'altra cosa sono due cose diverse totalmente diverse il cosiddetto culassant parisien è croccante fa un po' di tiramolla all'interno perché generalmente non ha zucchero se tu metti lo zucchero in un prodotto la crosta in breve tempo diventa molle perché lo zucchero attirasse l'acqua e i francesi hanno fatto questo croissant parisien copiando il kifli viennese che è nato da una storia che avevano sconfitti i turchi e avevano fatto questo prodotto a forma di mezzaluna o qualcuno dice la finale della scimitarra e alla fine l'hanno arricchito di burro perché i francesi non mettono il burro non sono contenti di fatti fanno anche le supposte col burro così uno non lo può mangiare davvero? no io ci crederei qualsiasi cosa tu dica io non sto dicendo niente perché non so se crede no sapete lui dice che il cioccolato bianco è una supposta per bocca non lo chiama cioccolato bianco perché non esiste no il cioccolato perché non c'è cioccolato giusto la parte essenziale è il cacao capito nel cioccolato bianco non c'è cacao cosa mi state dicendo ragazzi è una schimicata è una roba è come se mi abbiate detto mi aveste mi abbiate mi abbiate cioccolato eh sì Babbo Natale non esiste no Luigi quelle cose che si dicono non dirlo stavo per dirlo io poi mi sono bloccato vabbè comunque ho un gioco ho un gioco da farvi fare sì non te l'ho neanche avevo una domanda ma sai avevo una domanda la viennetta sì è di Vienna perché si chiama ed è un dolce o è solo una roba di industriale è un prodotto industriale che ha avuto successo anche conferitogli un nome adatto che dà la sensazione di qualcosa di leggero anche di antico di antico di storico di tradizionale e invece non è nulla di tutto questo la viennetta è una truffa ragazzi il cioccolato bianco non ha cacao queste cose comunque l'importante è che piaccia alla gente è molto buona la viennetta mi piace è una truffa ma è molto buona non so chi la faccia la viennetta l'algida non lo so scusatemi che buona che è poi facciamo il gioco perché ho un sacco di domande quanta competizione c'è tra pasticceri beh i pasticceri che hanno parecchie competenze non hanno competizione con nessuno sono quelli che non ce l'hanno che hanno competizioni che flexino qua però ci saranno farete una lotta ma no il mercato c'è una lotta è brutto da dire però ci sono i campionati lui vince voi avete vinto ogni anno l'oscar della pasticceria mondiale e sei stato l'allenatore della che senso si si è stato l'allenatore o leggo della squadra italiana ai campionati del mondo di pasticceria 8 volte c'è una panchina che cosa fa l'allenatore ai campionati cerca di far sapere il talento che uno ha e non di usarlo malamente come l'allenatore di calcio se uno se uno è capace a fare un cerchio è inutile che insista a fargli fare il quadrato giusto cercherò di fargli fare il cerchio e dargli una visione totalmente diversa totalmente tonda perché il talento è come il denaro chi ce l'ha non sa davvero io conosco un sacco di gente ricca che sa di essere ricca e che se la gode ed è un motivatore delicatissimo pazzesco e invece è dolce come si chiama come si chiama l'oscar invece della pasticceria mondiale coupe de monde francese francese perché non lo facciamo in Italia se siamo i numeri uno ci sono dei campionati mondiali minori per i signori per le donne non perché è un campionato migliore per le donne ma perché i francesi non ci avevano pensato in poche parole non bello francese lasciamogli il campionato mondiale coupe de monde come si dice? coupe de monde e cosa ti danno? una statua? sì a parte quel trofeo che danno ma dal momento che ha molto ha una comunicazione in tutto il mondo ti dà onori e onorificenze è il corrispettivo della stella Michelin della pasticceria grosso modo anche perché in pasticceria la stella Michelin non la puoi avere perché la pasticceria è un prodotto democratico che tutti possono mangiarlo mentre entrare in un tre stelle non tutti possono frequentare un ristorante di lusso come diciamo noi siamo un lusso affordable e avete mai inventato nella vostra pasticceria un dolce che non esisteva? spesso quasi tutti i giorni e cosa fai? lo brevetti? allora no non si può brevettare un dolce sì ma basta cambiare basta mettere tre grammi in più di zucchero però qualcuno l'ha mai fatto di brevettare il dolce sì sì se l'ha fatto però basta veramente fare una variante un lampone e la ricetta è diversa hai visto i maritozzi attuali che ci sono in giro che sembrano una bocca che ride sembrano degli smile ecco quello è stata Deborah che l'ha inventato aspetta fatemeli vedere maritozzi maritozzi che è la è probabilmente uno dei dolci che fa tradire tantissime diete a tantissimi italiani è vero maritozzi aspetta lo metto nello schermo voilà che è di un appetibile l'ha inventato tu? no no non questo questo è il tradizionale quello allungato però mettete maritozzi mazzari queste qua sono imitazioni ok metti maritozzi massari quello si assomiglia un po' eccolo qua pazzesco è come una bocca che ride che bello bellissimo è il nostro terzo prodotto più venduto e poi la bocca che ride è quella di quello che lo mangia o di quella che lo mangia è il terzo prodotto più venduto qual è la classifica il secondo il primo il panettone lo sapevo regolarmente tutto l'anno ma è troppo buono posso dire la verità io non ho la capacità di capire con panettone buono da un altro cioè non ho quella roba lì in bocca ma quando mangio il panettone di ginio te ne accorgi sento proprio la differenza rispetto agli altri panettoni come se ne avessi assaggiati diecimila sai quanti panettoni mi arrivano a casa a me durante Natale quindi ti fai il panel sì sì li assaggio tutti mi arrivano tutti i panettoni cioè di belli buoni di gente con un nome importante e devo dire che sento la differenza rispetto agli altri dicevate prima golosità ogni tanto parte a tutti quel momento dove prendi proprio un barattolo di crema spalmabile gusto nocciola e magari giusto perché non diciamo oppure prendi anche non ha capito nessuno che cosa nessuno Nutella oppure prendi il panettone il pandore e mascarpone e panna montata no però il nostro panettone è una bestemmia no meglio no si vede che questo va assaggiato così come vi voglio raccontare un piccolo aneddoto ero su una televisione nazionale e il conduttore mi dice cosa ne cosa fanno cosa fate con i vostri prodotti avanzati ho detto veramente il mio panettone non avanza mai perciò abbiamo finito qua il discorso è stato visibilmente incazzato non avanza nulla valgono molto le materie prime devono esserci materie prime di altissima qualità burro innanzitutto la vaniglia e pensa che in un pandoro la vaniglia è più visibile perché non contiene i canditi e l'uvetta quindi la vaniglia sono quei puntini neri lo so perché io seguo molto il maestro Gini e la vaniglia è un aroma naturale più potente che esiste bravissimo e abbiamo ricevuto una recensione che diceva caspita ma voi avete scenerato le sigarette nell'impasto no ma no no è davvero che so che è il baccello aperto si è aperto la polverina si sembrava scener wow quanto quanto conta la creatività nel vostro lavoro io penso che la creatività conti in tutti i lavori proprio nel senso più assoluto e senz'altro ti fa vedere un attimo più più lontano della punta del tuo naso e ti indica il percorso che dovresti fare però non è tutto cioè si parte dalla conoscenza certo delle materie prime poi valgono tantissimo adesso i processi perché quando inizi ad avere più punti vendita devi ovviamente codificare industrializzarti devi codificare tutti i prodotti industrializzarti come numeri rimanere una boutique esatto è difficilissimo adesso abbiamo 80 pasticceri però anche lì secondo me la creatività è fondamentale per trovare la chiave di volta guardate in questo poi io sono sempre affascinato dalle cose che ritornano in questo podcast una cosa che torna sempre sempre siamo noi è la componente creativa abbiamo avuto ospite un futurologo che ci diceva che è una persona che prevede ipotetici scenari del futuro per le aziende e ci diceva una cosa che è risaputa credo ormai che in un futuro prossimo le macchine sostituiranno l'uomo in tanti lavori in tanti settori e l'unica forse l'unica cosa che ci distinguerà nel mondo del lavoro è la creatività rispetto alle macchine perché è una cosa che è difficile da ricreare ti posso dire che amo il futurismo una volta partecipavo a parecchi convegni sul futurismo si dice che se l'uomo non frenerà un attimo l'intelligenza artificiale l'IA probabilmente viene probabilmente l'uomo più intelligente quanto aveva di valore 270 mi sembra Einstein era un po' più cretinetto ne aveva 196 e l'intelligenza artificiale supererà così se la lasciamo libera 12.600 come valore totale allora competere con l'intelligenza artificiale se prima non sarà amministrata non so dove andiamo a finire spero che l'uomo abbia ancora il cervello di non di mandare tutto alle macchine ma la creatività che tu hai detto sia riservata solo a lui e non alle macchine è un dato momento è molto difficile la componente creativa è una cosa secondo me molto difficile da ricreare la differenza tra l'industria e quello che stiamo facendo noi è che l'industria adatta il prodotto alla macchina noi facciamo l'opposto adattiamo la macchina al prodotto e se la macchina non riesce non lo facciamo wow pazzesco lo fate fare all'uomo lo fa esatto e comunque questo diciamo questa parte tecnologica è seguita da mio fratello io e lui siamo completamente diversi fortunatamente quindi complementari certo non vi sovrapponete esatto che bello ognuno occupa pazzesco è bello perché c'è la voglia di fare qualcosa di qualità di mantenere una tradizione ma dall'altra parte c'è anche voglia di di espandersi a proposito di qualità è una bella sfida ma infatti noi siamo una start up con 50 anni di esperienza perché la parte imprenditoriale è partita 3 o 4 anni fa perché prima avevamo la sola pasticceria di Brescia e quindi a noi piace dire proprio che siamo una start up avete appena iniziato a esplodere pazzesco il dolce più antico del mondo allora il dolce più antico del mondo a livello storico nasce in Babilonia è una specie di croccante il dolce cremoso più antico del mondo è una cheesecake greca ne abbiamo una antichissima anche in Sardegna a base a base di formaggio e menta comunque quando parliamo di cheesecake pensiamo sempre agli Stati Uniti è vero è qua credo hanno inventato qualcosa gli Stati Uniti nella pasticceria beh hanno inventato il business il business che non è poco che non è male vabbè loro si sono espansi bene loro col cibo hanno la capacità di venderlo e renderlo appetibile aggiungono quantità spropositate di panna e zucchero come si chiama quello lì che faceva la trasmissione delle torte il boss il boss delle torte il boss delle torte quello americano l'italo americano che faceva delle cose che sembravano immangiabili zucchero e burro ma no erano di pongo non erano di di do sono di di do perché molte di queste torte sono finte l'ho scoperto diciamo che la struttura è fatta in legno o in polistirolo beh si è stati a casa di facchinetti che tiene le torte dei compleanni e ha delle torte di dieci anni fa esattamente perché sono di pongo c'è una parte che si può mangiare e la parte sopra quella credo sia zucchero invecchiato che rimane così come è si è zucchero a base anche di burro di cacao assurdo è una specie di plastilina quando lo utilizzo è bello da vederlo da vedere ecco a proposito di qualità e di anche quantità over quality oggi ho portato questo è uno stacchetto che non avevo detto a nessuno ho portato del dolce e non faremo vedere ho censurato non dovete mangiarlo l'ho preso io l'ho comprato venendo in qua non faccio vedere non facciamo vedere i marchi ho messo lo scotch sull'etichetta però io voglio saperlo chi è ok lo scotch è trasparente vabbè hai detto che hai messo lo scotch eh sì c'è lo scotch non si dovrebbe vedere qual è il marchio è per farti dire che scotch hai messo non si vede che cos'è vabbè comunque ho portato un dolce non diciamo poi il brand ok non lo diciamo non lo diciamo poi tireremo a indovinare poi da una pasticceria classica classica e poi sempre qui ho censurato sempre e vi chiedo un parere sulla qualità di questo che questo è il diciamo il 90% delle cose che vengono mangiate dal cittadino comune abbiamo potuto mangiare no potete assaggiare con le mani e con gli occhi comune di Milano comune di Milano sì 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 ho preso 20 minuti fa prima la settimana scorsa allora questa è una brioche questa è una brioche al cioccolato poi abbiamo una brioche alla crema andiamo brioche da poi la bippiamo io allora da cosa partite? parti dai grassi di questa pasticceria classica come sono? aspetta apriamolo sì 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 qui abbiamo è un momento bellissimo sì qua c'è quello cos'è? l'italiano medio si trova davanti a queste cose comunque quello ci ha incollato qui è per l'estetica ho pensato ho cercato sono entrato in questo locale ho detto datemi questa per favore e quello cos'è? qui a proposito di cheesecake fatta probabilmente a mano la forchetta la forchetta l'hai presa sì sì ma non credo vogliate assaggiare non ho toccato niente sono commestibili guarda qua ti dico non c'è il burro il commestibile non vuol dire che sia buono assolutamente giusto è come l'acqua potabile non è detta che sia buona da bere è vero poi avrete dei palati molto più fini partiamo torte brioche della pasticceria milanese crema aroma classico del panettone milanese quindi lo stesso impasto può essere o no troppo pesante è pastosa magari non è burro no è margarina ah la margarina è la versione pacco del burro è la versione economica economica pacco è più economica ma poco lievitata pesantissima sarà un etto le nostre sono 50 grammi perché è totalmente lievitata poi se infatti si vede che è proprio ok se tu la assaggi attacca il palato perché la margarina va a un punto di fusione sui 42 44 di punto di fusione perciò il palato non riesce a farci quindi il classico palato ti si allappa la bocca si colla magari ci si rende più era una pasticceria rinomata o normale? no è possibile che fosse qui davanti qui davanti scusa sarà pure una pasticceria figa insomma no no in Duomo si ok questo è quello del McDonald questa è piatta c'è una masticazione lunghissima e la sorella come impasto mi ha fatto l'impasto meno tecnico non è cotta ah è pure cruda e probabilmente non è cotta come? perché i conservanti perché c'è dentro una crema la crema nel cuocere produce vapore poi la fa collassare questa è sicuro surgelata è cotta e la lasciata lì un giorno a riambassarsi due merda perché è una cosa che non si rende conto quando vedete le paste che hanno questo rivolo di cioccolato spesso sono di quelle surgelate vedi la cottura qua sotto un forno che ha più calore sotto com'è la cottura? è una cottura con un forno termoventilato qua in regolare fatta da una manualità da cane mi piace il commento tecnico giustissimo però qui è proprio per l'estetica di cui parlavamo prima c'è un cuore che vuol dire che ha avuto l'infarto un cuore così si si è rappresentato da una e poi come vedi qua è molto più bianca perché nel cuocere la confettura produce vapore e nel produrre vapore non cuoce alla perfezione mamma mia comunque è un casino raga fare i dolci fatti bene ma pensa il giorno che pensi di regalare effettivamente pensi fossero stati dei miei doni esteticamente non è male esteticamente dai non è male esteticamente è un dolce medio ma è buono buono da mangiare e beh qui è comfort food adesso ti trovo un cosa fai? un fazzoletto ah ok e vi libero da questi obrobri io lascio degustare a te sono le 5.40 ci stiamo larghi sì questi non consiglio di provarle comunque è una cosa che io spesso un altro di quei temi ricorrenti di cui parlavamo io ho fatto per un periodo il barista comunque se vai a comprare la pasticceria ti consiglio questa e non quella vabbè certo questa sì oh mecc*****o no no il marchio quello che ho censurato lo bippiamo lo bippiamo sì sì no comunque ecco dicevo che una buona parte delle paste che mangiamo nei bar sono surgelate sì anche io ho avuto un bar fatte in massa volevo ricordare che anch'io ho lavorato in un bar per tre anni ed erano surgelate le pastiche una schifezza arrivano queste robe smantrappite beh ma a volte cioè lavorano molto meglio le industrie di molti artigiani no e beh certo è vero questo è l'esempio lampante sì un prodotto industriale un prodotto artigianale meglio quello industriale sì alle volte perché ci sono degli standard anche perché non sai che cosa accade nella cucinetta o nella pasticceria è vero mentre all'industria ha dei controlli magari a volte più eh sì com'è la gavetta la pasticceria è tipo quella del cuoco il cuoco stellato è terribile allora ti spiego la gavetta che ha fatto fare la Deborah ok veniva in pasticceria le facevo fare il magazzino le facevo pulire le teglie lei si incavolava ma io tutti i mestieri più umidi lei si incavolava perché si sentiva la figlia del titolare aveva la laurea in tasca e io le ho sempre detto che se uno vuole comandare deve conoscere a fondo le difficoltà o la facilità del lavoro che lo circonda come puoi giudicare un lavoro se non lo conosci e tu puoi giudicarlo se lo fai e se lo giudichi sai che hai la competenza per farlo però metti una cosa una gavetta di 15 anni cioè poteva anche durare qualche anno o meno un po' severo beh ma spesso magari proprio per se sono arrivati lì lei e suo fratello un motivo c'è magari ha anche un po' di rabbia che gli ha messo nel corpo e nell'anima è giusto però il ragionamento è giusto se vuoi comandare devi prima essere comandato in modo tale che sai come comportarti con le persone che lavorano con te perché è anche un lavoro di squadra immagino guarda vale tanto il capo pasticcere quanto quanto chi è al lavandino oppure che lava il pavimento perché noi il pavimento non lo laviamo alla sera lo laviamo quattro volte al giorno e se serve che c'è il pavimento un po' sporco perché è caduto qualche volta lo lavano cinque e sei volte certo e perché e dico sempre che l'ordine del tavolo l'ordine del laboratorio ti pulisce la testa e riesce a lavorare meglio ecco detto questo stiamo facendo un grosso lavoro con dei manuali perché parliamo tanto di qualità ma ci deve essere la qualità anche nel servizio quindi essendo noi distanti dai vari punti vendita il personale di servizio deve sapere come rispondere ah beh certo dovete avere un un canovaccio esatto delle regole base da seguire non è facile è difficilissimo perché delle volte ti trovi davanti delle persone che hanno delle esigenze e il personale per esempio non sa esattamente cosa risponde però li stiamo formando per ora avete aperto solo in Italia? sì è più che sufficiente ma cavolo ma un Iginio Massari a New York ci stiamo già lavorando a New York secondo me vi dico una cosa se aprite New York sbancate però prima vogliamo partire dai paesi più affini all'Italia perché il problema poi è la squadra che trovi in America di sono cazzi quindi la Spagna quindi Spagna Spagna prima di tutto e Svizzera però poi i paesi che invece sono molto attratti dal Made in Italy quindi l'Inghilterra è attratti dal Made in Italy l'Inghilterra eh sì poi ci sono comunque anche tantissimi Norvegia se mai voleste anche l'Uganda anche la Svezia e la Norvegia hanno la tassa sullo zucchero meglio non andarsi ecco sono cose da considerare effettivamente e anche l'Est quindi l'Asia Soprattutto Singapore Giappone il panettone in Germania si può avere un successo alla Madonna ah sì però raga sono golosi raga se lo fate a New York smancate se trovate degli italiani che vive oggi che è pieno sono solo italiani è pieno e fate dei bei delle belle interviste dei bei casting fatti bene dei foglietti su dei muri con una squadra della Madonna magari state lì tre mesi giusto per vedere che lavorino bene e poi lì immagino che lo standard debba essere non alto altissimo di più quindi lontano da casa e lì dobbiamo capire perché per ora la produzione è tutta briscia anche degli altri punti vendita dovreste trasfare una produzione anche lì capire se è possibile se ci costa di meno il viaggio la parte della logistica con la produzione ancora centralizzata nella nostra città oppure se ci conviene aprire un laboratorio un loco aerei pieni di torte ai posti nei sedili beh comunque è una bella sfida non è una cosa da poco è una figata non ci annoiamo hai un sacco di massime deve essere bello essere cresciuti magari con un motivatore in casa o traumatico no perché si vede che è un uomo che aveva un obiettivo in testa e ha detto cazzo guardate che quando avevo sette anni cioè lui alla piscina anche abbastanza lunghe perché sono 20 22 metri mi faceva fare 200 vasche io non potevo alzare la testa dall'acqua dall'acqua ma in che senso morire nel senso che facevo le 200 vasche poi potevo permettermi di uscire dalla vasca un addestramento militare sì ma è anche soddisfatto anche io farò così con i miei figli farò esattamente così uguale rendetevi conto ne va fiero di questa cosa mi ha traumatizzata allora Deborah ho incominciato a portarla in palestra a tre anni le faceva fare giudo bello le facevo fare le arti marziali sua madre per renderla più bambina le faceva fare danza classica e ginastica artistica ha fatto un sacco di cose però un sacco di esperienze perciò è cresciuta non robusta perché è sempre stata magrolina ma a otto anni faceva il braccio di ferro con i ragazzi da 15 anni e le batteva tutti omigliandoli ovviamente e non ce n'era e io la guardavo e gli dicevo non cedere giusto la dinastia massari è competitiva quindi nel senso siete addestrati e pronti ti voglio dire che il suo fratello è esattamente all'opposto lui perdeva braccio di ferro con la sorella no non è mai stato per lo sport ah ok mentre lei è sempre vissuta per lo sport per forza ti sei scagliata tutto su di me perché sei la prima figlia hanno esaurito gli sport da scegliere no perché sul primo figlio dai tutto sul secondo sei un po' più morbido quando se cade non ti preoccupi più perché sai che se non si fa niente faccio quello che piace a me o faccio quello che piace agli altri se scrivo una canzone la devo scrivere che piace a me o nella musica solitamente se fai le cose che piacciono agli altri sei un venduto c'è questa concezione immagino che nell'arte culinaria sia totalmente l'opposto ed è una cosa è una figata l'importante in realtà è che quando hai uno standard di gusto così alto probabilmente quello che piace a te è quello che gli altri non sanno neanche di c'è la cucina della mamma cioè quando cucini per 20-30 persone e puoi fare quello che piace a te ma è circuito a pochissime persone cioè certo la cucina è capire e capire la gente se tu non vuoi capire la gente fai la musica che piace a te è certo però non capisci la gente allora lavori per chi? lavori per la gente o per applaudirti perché il discorso è tutto lì se lavori per applaudirti fai quello che fai fai tutte le stronzate che vuoi che non sbagli però devi pensare a una cosa se rincorri il successo o se ricordi il cesso perché se rincorri il cesso fai cagare è in continuazione questa è una pillola spero venga estratta e messa in quelle pagine motivazionali tipo imprenditori.it ah è vero ogni tanto ci mettono in queste cose tipo è vero è verissimo quello che hai detto io ho appena distrutto la televisione sì perché come dicevamo prima alla fine ciò che conta è il numero degli scontrini cioè noi abbiamo dei dipendenti ma giustamente noi abbiamo un'azienda e quindi dobbiamo vendere dobbiamo andare incontro al gusto delle persone ma è giusto ovviamente seguendo ciò che è la nostra filosofia ecco una volta sono andato in bagno a muschio e qui nel nostro bagno e non si apriva più la porta l'ha dovuta sfondare lui ma davvero tipo film americano ha tirato un calcio ha tirato dei calci finché non ha sfondato la porta e tu eri già in panico? no sapevo che è abbastanza grosso per sfondare una porta quindi ero tranquillo leggevo leggevo stavo leggendo una cosa hai avuto un dissing con Ernest Ernst 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 Kramm a proposito di una tecnica per temperare il cioccolato beh io non ho avuto niente è l'altro che ha avuto un attimo cos'è successo raccontami tutto sono già conquistato completamente da questa cosa beh è successo un gran successo che è un uomo andando al cesso non aveva carta d'osso si pulì con il dito grosso non la conoscevate questa non la sapevo non la sapevo è bellissima comunque il cioccolato ha delle tecniche per temperarlo temperarlo ok perché temperarlo io mi sto immaginando un quando vedi un uovo di pasqua mi cado dentro il temperino che è lucido temperare che significa? quando tu vedi un uovo di pasqua non deve essere opaco cioè deve essere lucido per lucidarlo per riuscire a staccarlo bene dallo stampo se no non si stacca per staccarlo dallo stampo deve fare delle curve di temperatura ok ma su instagram tutta questa cosa è nata è pazzesco sì cioè lui ma ha iniziato lui? sì è tipo Alida ha iniziato lui ha detto Massari ha sbagliato il cioccolato si tempera a 22 gradi 22 gradi diventa un blocco perché il cioccolato a 22 gradi non si può lavorare diventa duro ma già a 24 gradi è già solido cioè si chiama fondente perché fonda la temperatura corporea certo quindi 22 gradi è semisolido e perciò lui è andato avanti e poi strisciano la notizia hanno fatto una caffonata hanno fatto questo per dare più più interesse hype si dice così nel gergo giovane non lo so però per me è stata una stronzata e va bene poi personalmente non ho più risposto a nessuno ma tu hai risposto chi è che hai risposto? hai risposto tu? rispondeva lei tu non hai mai risposto? non mi interessava proprio cioè parlare di cose che sono inutili è come dire che la tua automobile va velocissima e ha le ruote quadre boom cioè bellissimo ma siete amici? no ti voglio dire che dovevamo fare qualche cosa assieme non lo fate più? non lo faccio più ragazzi voglio essere il social boom dei pasticceri ti voglio dire quello che fa lui non lo so quello che faccio io lo so già bellissimo bellissimo e niente ci eravamo scritti lanciamo un messaggio di pace per Ernest Cam questa parte la sentiamo mi hai provato a fare le ricette del maestro io ho fatto una volta il tiramisù mai buonissimo raga faceva schifo da vedere perché l'hai fatto tu? l'ho fatto io sì sì io ho seguito la ricetta sua e l'ho fatto io buonissimo da vedere era terribile era tutto mascarpone ho fatto addirittura i savoiardi a mano la madonna perché nella ricetta ho fatto proprio i savoiardi ho fatto tutto un video pazzesco ci sono dei dolci della grande distribuzione che ti piacciono? gli abbracci no? buoni sono buoni ma sai perché? perché? perché è una sua ricetta nooo allora inizialmente sarà cambiata 60 volte oddio fermi tutti gli abbracci erano nata su una mia idea di 40 anni fa perché io collaboravo con il Molino Bianco bellissimo sono esperienze della vita ma non c'è la SIAE dei biscotti? la SIAE dei biscotti? la SIAE dei biscotti? mi piaceva questa azienda perché benché fosse un grande mi piace che parli al passato e già mi piace tantissimo non ci sono più dentro per quello che mi piace meno ti voglio dire che era veramente una squadra che remavano tutti nello stesso senso dalla proprietà dall'amministratore delegato di quei tempi io mi trovavo non bene ma stra bene perché lì è l'esempio valido perché un'azienda arriva a successo non c'era c'erano dei problemi come dappertutto però l'innovation proponeva anche cose assurde ma però l'innovation se non propone delle cose che sembrano assurde che possono avere successo non è un'innovation l'innovation poi si confrontava con la parte produttiva perché diceva abbiamo fatto questo sì ma lì la parte produttiva lavora già 24 ore non possiamo farle perciò è inutile che tu vai avanti lo studio oppure se c'era dello spazio allora incominciavano a ragionare però la parte commerciale diceva eh ma questo qua è un prodotto che viene a costare troppo eh beh certo è un equilibrio è un equilibrio perfetto ma tu vedevi la gente la voglia di raggiungere il traguardo che anni erano? quando è inventato la prima collaborazione seria è stata nell'83 wow non eri ancora nato non ero ancora nato le persone non sapevano neanche come dare affetto prima credo che abbiamo appena la gente lo sa che ha inventato gli abbracci no ho collaborato con gli abbracci nella mia testa li hai inventati tu lasciami stare allora ti voglio dire che poi se tu li vedi praticamente sono due prodotti a ferro di cavallo che si accavalcano proprio come un abbraccio è vero è significativo anche il nome beh certo dimmi un'altra cosa che non sappiamo che magari è sconvolgente tantissimo c'è cose che tipo non diremmo mai non dai privato no 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 ti immagini che c'è una cosa magari in cui hai messo lo zampino che nessuno sa secondo me è in troppe è una più eclatante che dovremmo sapere tutti beh già gli abbracci per me si è già tanto ti voglio dire quando mi occupavo di edilizia perché io non ho mai fatto solo un lavoro mi sono occupato di edilizia di palestre di palestre ho avuto la palestra negli anni verso la fine degli anni 70 lui insegnava negli anni dopo ho avuto 5.000 metri quadri di palestra con 2.500 metri quadri di tatami dove c'erano tutte le arti marziali dentro c'era anche danza c'era bodybuilding negli altri 2.500 c'era un po' tutto quello c'era nelle lotte c'era la savate francese dove hai trovato il tempo di fare tutto esatto ti voglio dire che c'era mia moglie che non era gelosa delle donne ma era gelosa della palestra perché io finito il lavoro andavo subito in palestra poi non guardavo mai l'orario magari delle volte finivo alle 11 alla sera quindi era importante far combaciare sempre bisogna avere un equilibrio per tutto io non l'ho mai avuto in nulla ma infatti io è da 2-3 anni che lo vedo di recente incredibile da quando la start up è iniziata per esempio una delle cose che ho sempre fatto ho sempre scritto male ma ho sempre scritto hai pubblicato dei libri? non di cucina dico scusa io ho pubblicato di pasticceria penso sui 150 libri beh quelli immaginavo però di con romanzi i romanzi ho scritto tanti racconti sul cibo anche poesie sul cibo ho scritto ho scritto delle poesie trasformate in canzoni che avevo l'idea di darle in mano a Omar Pedrini per trasformarle Omar Pedrini dei Timoria Timoria ex Timoria scusate dei ex Timoria che siamo amici da tanto tempo perché lui abitava dietro al nostro alla casa nostra dove è nata la pasticceria la nostra pasticceria pazzesco quando era bravo veniva regalata a scuola quando faceva i compiti perfetti veniva regalata una brioche ma veniva tutti i giorni mi rompevo un po' le balle pazzesco bellì che storie il judo quindi è stato parte importante anche nella vita è stato importante perché è quello che mi ha fatto recuperare parte del movimento della gamba destra che ho avuto un incidente spaventoso e mi avevano detto che non potevo più piegare la gamba e invece sia il judo sia la bicicletta la donna perché non avendo la canna di mezzo perdevo un attimo la pedalata ah certo mi facevo dare dei colpi in continuazione i legamenti si sono allungati e ho recuperato il 90% madonna ma infatti se tu lo vedi da quella parte lui ha una cicatrice sì mi avevano staccato l'orecchio incidente stradale madonna moto ti piacciono le moto ti piacciono le moto mi piacevano perché non ho più messo il sedere sopra una moto pericolosissima avevo 20 anni guarda quanto tempo sono passati 58 anni madonna e praticamente una moto una macchina è uscita dallo stop mi ha preso in pieno mi ha buttato sull'altra corsia è passata un'altra macchina una Volkswagen che mi ha passata parca puttana potevi non essere qui facilmente no lo leggerete sulla mia autobiografia esatto ringraziamo grazie mille la Massari Legacy mi piace un sacco dire questa parola ragazzi spacca vorrei anche un giorno dire il mio cognome con Legacy i Fedez i Ferragnez non mi chiamo così la Legacy Ferragnez non mi chiamo così che è un ibrido e comodo da dire ok va bene il Lucia il Lucia la Legacy Lucia brutto ok Massari è bello va bene ringraziamo ringraziamo la Legacy Massari per essere stati con noi grazie mille davvero grazie mille ciao a tutti grazie a voi grazie ad averci invitato grazie a voi grazie